Un giorno una madre col suo bambino stavano passeggiando e la madre vide il bambino che si pavoneggiava nel guardare la sua ombra proiettata dal sole che avevano alle spalle. La madre si fermò, guardò il bambino e gli disse figlio mio se vuoi diventare uomo guarda la tua ombra a mezzogiorno. L'insegnamento della madre è chiaro, non bisogna essere presuntuosi ma bisogna essere umili. Ebbene le letture di oggi ci dicono che Dio non guarda la fama, il successo, la bellezza, la potenza, ma guarda l'umiltà. Tanto che ha scelto di incarnarsi in Maria, una giovane donna del popolo umile. Ma questo dice anche che Dio guarda anche ciascuno di noi, nel nostro limite, con tanti limiti che abbiamo, ma Dio è pronto ad arrivare a noi. E questo ci dice che l'obiettivo del cristiano è ritenersi unico, ciascuno di noi è unico di fronte a Dio e può essere nella sua umiltà amato da Dio. E allora noi possiamo rispondere che si vince perdendo, si ama servendo, si vive morendo.